Hanno trovato al cancello, a uno dei loro cancelli, questa cagnolina legata è morta. È stata ritrovata senza vita con ancora il guinzaio attaccato a questo cancello. Ci troviamo a Camucia, all'ammattatoio, a pochi passi dalla canile di Ossaia. Voglio anche sperare che magari la volevano mettere al cancello del canile, non conoscendo la zona hanno sbagliato cancello. Non voglio arrivare a pensare qualcosa di più cattivo, come tanta gente ha detto che magari l'abbiano messa lì proprio per non farla trovare. Stella, così è stata ribattezzata, è rimasta lì per almeno due giorni per poi morire sotto il sole in una posizione purtroppo non visibile ai volontari del canile vicino. Noi qui in canile ci siamo tutti i giorni, compreso i festivi, però il cancello a cui è stata abbandonata la cagnolina è abbastanza distante da noi e quindi noi di davanti non ci passiamo mai. La cagnolina era anche malata, aveva un tumore mammario. Facilmente asportabile da qualunque veterinario, quindi poteva essere benissimo curata. Un terribile episodio che riporta l'attenzione sul fenomeno degli abbandoni degli animali, soprattutto nel periodo estivo. Abbiamo trovato anche cucciolate di gattini dentro le scatole qua fuori e comunque sì, ci sono già gli abbandoni, c'è già gente che chiama che non può più tenere il cane e che quindi chiede di poterlo lasciare in canile. Adesso l'appello è rivolto a chiunque riconosca quella cagnolina per risalire così al responsabile del crudele gesto. Se qualcuno sa, ha visto o conosce perlomeno la cagnolina, che dica qualcosa.